Star Casino Sport, stadio Renzo Barbera, oggi siamo in compagnia del centrocampista classe 1997, Jacopo Segre, con cui faremo una chiacchierata. Intanto, benvenuto Jacopo, come stai? Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, sto bene ed è un piacere essere qui con voi. Allora, io intanto inizierei a parlare del tuo rapporto con Palermo. Che città hai scoperto vivendoci e cosa ti ha maggiormente colpito? Ma sicuramente è una città meravigliosa. Sin dal primo giorno che sono arrivato qui, che mi hanno accolto i tifosi, mi hanno fatto subito sentire il calore di questa meravigliosa città e piazza. È una città storica e che ancora devo scoprire tante cose, però sicuramente pian piano le sto vedendo ed è ricca veramente di posti magnifici e quindi devo ancora proseguire il percorso, diciamo, da visite. A proposito di città, voi giocate all'interno dello stadio Renzo Barbera, che è uno degli stadi più caldi d'Italia. Quanto è importante l'apporto del pubblico nelle gare interne? Ma è senza dubbio sicuramente il nostro dodicesimo uomo per tutte le partite che abbiamo affrontato e che affronteremo, perché uno stadio così sincero non l'ho mai visto. Ho avuto e avrò la possibilità di giocarci e veramente riscalda, è una bolgia e quindi ogni partita ci dà quel qualcosa in più per affrontare meglio le partite e per dare sempre il 100%. Continuando a parlare del campionato, la corsa dei play-off continua. Qual è il punto di forza di questo gruppo? No, sicuramente, come ho detto tante volte, il gruppo è fantastico, fatta di gente bellissima e persone, prima di essere professionisti, sono uomini e questo è il nostro spirito che ci ha contraddistinto fino adesso. Dobbiamo proseguire così, partita dopo partita, dando sempre meglio di noi, seguendo quello che ci dice il mister e portando avanti le nostre doti per affrontare veramente al meglio queste fine di campionato. A proposito di punti di forza, tu sei una mezzala moderna, abile negli inserimenti in zona goal. Qual è il tuo punto di forza appunto e in cosa ti senti ancora di migliorare? No, io sì, sicuramente sono una mezzala e diciamo il mio punto di forza comunque è la fisicità, la corsa, gli inserimenti, la mia dote comunque di poter fare goal e comunque creare occasioni durante le partite. Ovviamente devo migliorare ancora in tante cose e adesso ci sto lavorando ogni anno e dopo allenamento dopo allenamento ci lavoro e diciamo grazie anche al mister, ai miei compagni che diciamo cercano di mettermi sempre al meglio per migliorare. Invece avevamo una curiosità, se c'è una playlist che tu ascolti nel tragitto per andare allo stadio il giorno della partita, che genere di musica ti piace ascoltare? No, io il giorno prima della partita diciamo che ho la mia playlist con delle canzoni che diciamo cerco giornalmente di scaricarmele, quelle che mi piacciono e mi caricano di più le ascolto. Però sono un ragazzo diciamo che piace ascoltare, diciamo dipende dal periodo e quindi però prima della partita sempre qualcosa che mi carica per affrontare con la giusta mentalità le partite. Se potessi scambiare la tua maglia con uno di questi tre campioni, chi sceglieresti? De Bruni, Modric o Verratti? E' una scelta complicata, però sicuramente De Bruni è un giocatore veramente fenomenale, regala spettacolo ogni partita e ha delle doti pazzesche, non escludendo anche agli altri veramente giocatori magici. Però dai con De Bruni comunque sperando di magari poterla scambiare in un futuro. Chi lo sa magari va a finire come Brunori. Esatto magari. Pastore. Jacopo Segre invece somiglia di più a Pogba Tonali o Ciananoglu? No, penso che per caratteristiche sia diciamo simile a Tonali perché è un giocatore di quantità, di sostanza e pure di qualità e comunque un giocatore duttile. E' un giocatore che ricopre tanti ruoli nel centrocampo ed è un giocatore che dà l'anima sempre ogni partita e penso che questo mi possa contraddistinguere perché è la mentalità e la forza che fa tanto. Una piccola curiosità invece. Il mister vi concede un giorno libero. Cosa sceglieresti? Un bagno a un mondello? Un'escursione in montagna? Una cena di pesce in riva al mare e poi a ballare in discoteca? Scegliene uno. No vabbè dai sicuramente fare una passeggiata a mondello oppure anche un'escursione in montagna dai sono tutte belle cose e avendo la possibilità di vivere comunque a mondello c'è l'opportunità di farsi qualche passeggiata e scoprire posti anche a mondello e quindi scelgo questo. Sono perfettamente d'accordo con te. E invece a proposito di mister, quale tra gli allenatori con cui hai lavorato ti ha colpito maggiormente e perché? Ti ha lasciato un segno comunque. Ma ho avuto la fortuna in questo percorso di carriera finora di avere allenatori importanti che mi hanno lasciato tutti qualcosina. Per citarne uno o due comunque posso concentrarmi su Moreno Longo che ce l'ho avuto in primavera del Torino che è stato un passo fondamentale per la mia carriera che mi ha aiutato ad affrontare mentalmente e umanamente il salto dalla primavera al calcio professionistico. E quindi lo ringrazio molto perché mi porto con me tutti i suoi consigli e invece per diciamo esperienza unica in Serie A quando ero al Torino ho avuto la possibilità di conoscere e allenarmi con Gianpaolo che mi ha veramente trasmesso tanto. Cosa volesse dire veramente il predominio del assoluto della palla, del possesso e delle posizioni in campo tecnicamente e tatticamente. Parlando di giocatori invece a quale ti ispiri e quale giocata ruberesti dal suo reparto tecnico? Ma è un giocatore moderno e giovane mi piace molto Valverde del Real Madrid che anche lui è un giocatore d'utile che sfrutta tanto la sua fisicità e la sua forza e la sua tecnica e che ricopre tanti ruoli nella squadra ed è un giocatore che mi piace perché veramente esprime tanta forza e tenacia. Invece per quanto riguarda i tuoi compagni attuali il più simpatico dello spogliatoio quello che ti fa spaccare dalle risate? No vabbè non faccio mai nomi però è un gruppo veramente simpatico a cui voglio bene a tutti e ci scambiamo ogni giorno con tutti delle battute facciamo ridere. Ho una domanda curiosa invece arrivi nello spogliatoio facciamo esempio e ti accorgi che i tuoi scarpini sono spariti a quale compagno daresti la colpa? Darei a tanti la colpa però anche qui non faccio nomi perché giorno dopo giorno può esserci una sorpresa però ci sono dei dispettosi nel spogliatoio ogni tanto. Non facciamo nomi qui. Non facciamo nomi, non facciamo nomi. Vabbè qualcosa di più semplice invece qualcuno con cui ti senti di avere più feeling in campo o con cui ti piace scambiare la palla? No ma anche qui in partita in allenamento diciamo che quando trovi un gruppo così sano e così volenteroso di migliorare giorno dopo giorno trovi feeling con tutti perché penso che sia importante per affrontare al meglio le partite e trovare feeling con ciascuno dei tuoi compagni per diciamo rendere meglio sempre la domenica. Ho l'ultima domanda per te. Liga, Premier o Bundesliga? Quale tra questi campionati reputi più affascinante? Tutte e tre? No, tutte e tre. Sì, no. Bellissimi tutte e tre, affascinanti. Penso che la Premier e la Bundes esprimono un calcio di grande fisicità, di ritmo. E quindi penso che magari ecco meglio in quei campionati lì però sono tutti e tre campionati bellissimi che ogni bambino comunque sogna di poterci giocare però sono da vedere anche in televisione sono campionati che rendono veramente sempre felicità. Grazie Jacopo Segre, speriamo di poterti portare fortuna e che tu possa segnare il prossimo gol con la maglia rosa nero. Mi raccomando, dedicacci il gol. Va bene? Va bene, va bene. Grazie mille. Pensaci. Ciao Jacopo. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti.